Oggi siamo qui alla palestra a Renzo Barbugliani con i dottori dottor Mella e il dottor Andrei per aiutare i bambini profughi ucraini ad ottenere delle certificazioni sportive. Cosa ci potete raccontare della vostra esperienza? È un'azione che facciamo volentieri, su invito di Angelo, responsabile della Wisp, che avendo questa opportunità di avviare lo sport, tutti questi ragazzini e ragazzine, non ho saputo dir di no. Io sono andato in pensione un mese fa e quindi ho passato l'attività al dottor Andrei, guarda caso è di lingua ucraina ed è un bravissimo medico. Allora ho detto tra noi due siamo una forza poter fare questa certificazione tra oggi e domani a 50-60 giovani che avranno l'opportunità di fare lo sport vari grazie all'associazione Wisp. Quanti ragazzini avete visto oggi? Abbiamo visto oggi 10-15 ragazzi che devono venire a fare questi certificati. Raggiungo la mia parola che è molto importante questa attività, grazie a tutti i partecipanti che hanno organizzato questo evento importantissimo perché dal punto di vista anche i medici, i bambini vengono tutti spaventati e non parlano molto che bisogna dare questa questa opportunità e una mano a loro sicuramente e coinvolgere l'attività sportiva. Un modo per includerli al meglio? Sì, sì. Divertendosi, divertendosi, è bello lo sport. I ragazzi lo amano. Poi ognuno seguirà lo sport che gradisce e il signor Angelo ha molte varietà di sport da offrire, speriamo. Allora, io sono Angelo Maffione, sono il coordinatore dello sportello integrato, Wisp è a disposizione di questa comunità e mette a disposizione il progetto di famiglie stravaganti, bambini da 0 a 10 anni, tutta l'altra fascia d'età verrà presa in considerazione da tutte le altre società sportive esistenti sul territorio. Questa mattina, la do proprio per conclusa, ho parlato con l'allenatore della prima squadra Alessandro Lodi del rugby e presto ci sarà un'accoglienza presso lo stadio del rugby, tutta la popolazione che è arrivata qui a Rovigo verrà accolta e festeggeremo all'interno del grande impianto, mitico impianto del rugby di Rovigo. In progress stiamo aspettando altre sollecitazioni sportive, sapete bene gli sport che ci sono a Rovigo e io ringrazio, visto che c'è a fianco a me l'assessore Berghini, per questa grande disponibilità che ci ha dato per rilasciare i certificati di utilità sportiva, insomma, che servono per fare attività sportiva. Un bel momento di inclusione, Assessore? Sì, assolutamente, è necessario anche perché questi ragazzini, ragazzi, ragazze che vengono dall'Ucraina hanno bisogno di fare attività sportiva per poter stare con i loro coetanei e per potersi muovere e sentirsi in una situazione di vita normale, quindi abbiamo assolutamente accolto la proposta di WISP e anzi la andremo ad ampliare a tutte le società sportive perché stiamo prendendo informazioni presso l'USL per poter fare certificazioni mediche così da mandare i più grandini anche all'interno delle squadre che vogliono dare disponibilità all'accoglienza. Grazie